ecco il video giocatore intento su gta la sua partita vediamo se riuscirà a fare un buono score questo ragazzo seguiamo più nel dettaglio nel dettaglio eccolo lì fermo aspetta deve essere l'avversario esce ma non uscirà l'avversario questo diciamo che è il punto della situazione a natale ragazzi riprendiamo bene mentre concentrato nella sua azione di gioco con la moto direttamente con la motore ragazzi con la moto essi essi si si impennando sta per schiantare e guarda c'è guida senza guardare ragazzi mamma invece sta guardando stront sta guardando iscriviti al canale Grazie a tutti